C'è attesa da parte dei cittadini di Solofra per la ripresa dell'antico quartiere Topolo-Barsami, con l'intesa sottoscritta dall'amministrazione Moretti con i Cucri, di cui fanno parte l'Università di Salerno e la Federica II di Napoli. Il territorio di Solofra passa così nell'interesse scientifico e tecnico del Consorzio Interuniversitario per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. Il tessuto cittadino è stato riconosciuto di interesse scientifico come naturale laboratorio di ricerca applicata in materia di rischi, in particolare di quello idrogeologico. Lo storico rione Topolo, area poco distante dal centro urbano che vive in uno stato di degrado con immobili antiche e fatiscenti, risulta tuttavia un quartiere valido sul fronte storico e architettonico per le sue caratteristiche del passato tra vicoli e stradine, immesse oggi da una fitta vegetazione che ricopre quasi del tutto anche gli opifici conciari di una volta, che raccontano la nascita delle prime concerie, una sorta di museo naturale dell'archeologia industriale, l'area da quanto emesso necessita di opere di mitigazione e rischi da frana per poi rendere attuabile l'attività del piano urbanistico. Un passo importante per rendere anche realmente attuabili i progetti di recupero Topolo-Bassami e dare una svolta sociale, urbanistica ed economica al territorio e alla città di Solufra.